Il commissario di Lega Coppa Abruzzo, Elio Di Odoardo, dopo il ridimensionamento del piano casa da parte del Governo nazionale, ha chiesto al Presidente della Regione, Gianni Chiodi, un tavolo con rappresentanti delle istituzioni locali utile per dar vita ad un'ipotesi condivisa di legge regionale per l'attuazione del cosiddetto piano casa del Governo. Di Odoardo chiede anche la promozione della realizzazione di partenariati locali per la realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa. L'epilogo verso cui si avvia la vicenda del cosiddetto piano casa, proposto recentemente dal Governo, scrive Di Odoardo in una nota, dimostra che l'unico metodo per assumere provvedimenti che coinvolgono competenze regionali e che possono incidere con efficacia in tempi rapidi sulla congiuntura è quello di un solido partenariato istituzionale.